Hola Flamingo, c'è tanta musica, c'è tanta musica, c'è tanta musica, abbandonate, qui sono le montagne russe, quindi voglio prendere in piscina. Vedete, vedete, qui c'è la mappa, la potremmo vedere? Andiamo, andiamo, andiamo in giro. Ma che si vede? I pezzi da Oscar. Ma i gadget, ci andiamo dopo, andiamo a vedere i pezzi da Oscar. Ok? I pezzi da Oscar. E' un saccofago, visto? E' un saccofago, visto? Sì, una mummia! Mamma mia, una mummia! No, guarda! E' un saccofago, visto? Guarda, Massimo Boldi, Aldo Fabrizio. Ma loro sono molto famosi nei film. Ma non è un saccofago, ma non è un saccofago. No, ma loro sono quelli che conosciamo. Ma c'è anche lui, il mitico Gesù! Questo è quello che è il San Paolo. E questo è la morte. E c'è anche lui, Buddha! E c'è la morte. E guarda qua, questa è la pasta da bagno che si usava tanto, tanto da Buddha. Oddio, ma questa era una... Tenta, no? Ragazzi, sono stata la Buddha. Federico Pellini, ecco chi è! Federico Pellini! Mattiglio! Mattiglio! Mamma, è il papo mondo! Questo assomiglia ad Alberto Sorghi, un po'. Un po'. Non lo so chi è, non lo so. Mattiglio, mamma, ti sono scordati la faccia! E ce la metti dentro te! E ce la metti dentro te! Dai! Non ci vedete, mi devi d'aiuto, ho tanta paura! Ah sì, per me che il video faccia! E' un po' qua! Passa! Qui! Metti di sopra! Non lo fa? Un po'. Prima fa è passare una cosa prima non lo fa e è affatto. Quello attivo, per fare la seconda volta ci siamo messi 10 minuti. Tavate di rispettare! Me ne sono accorta perché lei l'ha fatta. Eh, ma lo fa, ma non parte. Eh, l'ho visto. Non funziona. Sì, e passa un'altra volta. Passa piano piano. Sì, eppure me ci sono le 16 minuti. Beh, peccato. Non lo riprende. Dai, ma lo voglio fare. Non funziona. Però poi viene per provare a lei più di una volta perché l'attivica sia funzionata. No, no, no. No, no. No, no. Sta l'arcensore. No, no, no. Magari girati le spalle. Perché quando resta sopra, la luce resta accesa. E quando se ne va, si può spostare. Niente, ce le riproviamo più tardi. Non va, non va. Non va, non va. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao